Ok, allora, erano 4 giorni che non facevo video perché avevo un po' da fare, oggi voglio parlare un po' un po' a dare il mio pensiero per quello che riguarda il mandato che è stato dato al nuovo Presidente del Consiglio, dal Presidente della Repubblica, il quale non è che lo vedesse tanto bene, ma perché non è contento neanche del governo, questo governo Movimento 5 Stelle Lega, la destra, Forza Italia, Fratelli d'Italia, il PD, il PD, noi non vediamo bene perché le spese se ne accorgeranno gli italiani, ma porca miseria, ma allora il PD ha fatto governi legittimi in un Parlamento illegittimo, un Presidente della Repubblica illegittimo perché è eletto da persone illegittime, quindi tutte, e prima poi queste cose qua verranno a galla, e tutto questo dimenticato, perché lo dice il reggente Martina, Martina sceso dal cielo del PD per bonificare il male fatto da Renzi, da Letta e da tutti quegli altri a cui hanno dato retta, soprattutto un certo signore che si chiama De Benedetti, che è quello che vuole la rovina dell'Italia, d'altronde lui è nato per rovinare il paese, è lui che ha portato le innovazioni americane, vuole far diventare l'Italia un'America, una bolgia, perché? Perché nella bolgia, nel caos, nel casino, nel creare problemi, loro ci campano, a loro fa comodo, pensate soltanto a uno come Juncker che invece di preoccuparsi del bene degli italiani o degli europei, si preoccupa del bene degli africani, perché? Beh è ovvio, chi è che li mantiene, come fa l'Europa ad andare avanti se non vendendo a paesi come l'Africa, non può certamente vendere, certo commercia con gli Stati Uniti, ma adesso con Trump c'è questa difficoltà, cerca di commerciare e quando parliamo di commercio non pensate ai beni primari, pensate a armi, armi, droga, sono queste le cose che mandano avanti l'economia, non penserete veramente che l'economia va avanti con i prodottini che per giunta poi, come tipo Amazon, così che vengono gestiti da paesi che non si sa chi è il proprietario, magari un, non mi ricordo se era asiatico, se era americano, se uno che era asiatico però trappiantato in America, cinese, cioè perché comunque i nomi sono quelli, io dico soltanto questo, cioè bisognerebbe essere contenti soprattutto per il fatto che ad andare, ah perché, vabbè poi lasciamo perdere il fatto delle considerazioni su un professore stimato in tutto il mondo, mai cagato da nessuno, finché non è stato fatto Presidente del Consiglio, finché il Presidente del Puglia gli ha detto va bene guarda ti do il mandato anche se con riserva, perché comunque sia, sai ho i miei dubbi, soprattutto per la lista che poi presenterà, perché comunque c'è uno che è un economista che dovrebbe fare il Ministero delle Finanze, prendere il posto di Schioppa, Padovan, che peggio di Padovan, penso che non, cioè hanno fatto tutti gli altri, quindi almeno speriamo che questo qua non è mai stato, io non l'ho mai sentito, dovrebbe fare meglio, no perché fino adesso abbiamo avuto economisti che si vantavano di essere economisti e sinceramente l'unica cosa che hanno creato è spesa, 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 prese per il culo, spesa, spesa, prese per il culo, dove il popolo lavora, deve lavorare e stare zitto, eh dai ragazzi c'è il PD che viene a fare elezioni, Forza Italia, Berlusconi, Berlusconi che si vanta di che tutti gli altri sono imbranati e l'unico che è bravo è lui, ma uno che è bravo fa vedere i risultati, non va a farci fare le figure di merda in Europa, eh, e le stesse cose le ha fatte Renzi, poi vedremo, aspettiamo di vedere questo professore che sicuramente, certo un po' di emozione c'è stato, è difficile anche trovare il modo di parlare davanti ai giornalisti con una carica così importante, ma meglio uno che non conosce, piuttosto che i navigati che hanno creato più danni che altro, certo la politica di Berlusconi è la solita politica dei politichesi, cioè mettiamoci d'accordo, io faccio un favore a te, tu fai un favore a me, dove mangio io mangi anche tu, e se siamo andati avanti così per anni, ragazzi ma così per anni non si poteva, cioè non pensavate veramente che potevamo arrivare a un certo punto e dire basta, il problema è che l'Europa, Germania, Francia e questi paesi qua hanno puntato sull'Italia mettendola come paese progredito, in realtà lo stiamo dimostrando tutti i giorni, di progredito noi non abbiamo niente, io i paesi europei come paesi europei avrebbero dovuto dire, eh signori ma voi fate parte di un altro mondo, eravate una potenza ai tempi dei romani, ma 3 mila anni fa, 2 mila anni fa, oggi non siete niente, siamo una potenza industriale certo, ma come, con la furbizia, con le prese per il culo, come il fatto di vantare di, perché ci sono sempre le stesse famiglie, non è che uno ha puntato su un'idea, perché ricordatevi che dove c'è un marchio grande ci sono anche grandi di grani, le grani nascoste, le polveri messe sotto il tappeto, che poi ogni tanto spuntano, però i giornalisti sono bravi a dimenticare, una volta dicevano che i giornalisti erano tutti contro Berlusconi e oggi sono tutti a favore di Berlusconi, in realtà non è che sono a favore di Berlusconi o di De Benedetti o di quant'altro, loro vanno da chi li paga e cercano di stare buoni, perché? Perché salta il sistema, hanno capito che col Movimento 5 Stelle non si scherza e vedremo, io me lo auguro che saltino, che iniziano a spulciare, a tirare fuori tutte le pulci che ci stanno dentro i vari ministeri e lì si vedrà, lì andremo e sapremo finalmente come stanno le cose, capito? Quindi io mi auguro che la gente, mettetevi il cuore in pace, abbiamo sopportato abbastanza e sono felice che finalmente che la Lega abbia capito che era inevitabile e che magari, visto che comunque c'erano tanti problemi, erano gli stessi, cioè si potevano risolvere nello stesso modo e quindi c'era per forza un'intesa buona, perché se le cose sono le stesse, l'intesa diventa buona, ok? Ciao a tutti!